È passato qualche mesetto più o meno da quando è venuta fuori, signori, la notizia del tradimento ai danni di Eleonora Berlusconi. Il settimanale di Vedonna pubblicò all'epoca in esclusiva le immagini di Guy Bairns, compagno di Eleonora Berlusconi, mentre bacia e abbraccia tranquillamente un'altra donna, Parco Sempione, e tutto ciò a pochi passi dal Castello Sforzesco a Milano. La relazione tra Eleonora, figlia dell'ex premier e di Veronica Lario, e il modello britannico era stata resa nota nel 2011. Da allora non è trapelata alcuna indiscrezione sulla fine della storia di Eleonora Berlusconi e Guy Bairns, almeno fino a quando il settimanale Key ha pubblicato le foto della prima vacanza da single della figlia di Silvio Berlusconi in Sardegna. Alcuni giorni di relax che sono stati fatti a Porto Cervo in tranquilla compagnia di amici tra cui anche Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e del pugile Daniele Scardina, di cui non sentivamo parlare da un po' di tempo. Il settimanale Key sottolinea che in Sardegna Eleonora si è divertita con gli amici e si è anche concessa un bagno in mare. Tra i presenti ci sono anche due ex concorrenti di Ballando con le stelle, cioè Alvis Rigo e l'ex di Diletta Leotta Scardina, ma è stato presente anche il modello Stefano Maderna. Dopo un bagno in mare, seguita dalla compagnia, Eleonora Berlusconi raggiunge lo splendido yacht di famiglia, ben 48 metri con 5 suite e 4 cabine. Là dentro poi fa di tutto, veramente di tutto. Le immagini di Bins che bacia un'altra donna a Parco Sempione, a pochi metri dal castello Sforzesco a Milano, hanno sortito un risultato quasi immaginato visto il silenzio con il quale la notizia alla fine poi è stata gestita. La conseguenza è stata che la relazione tra loro è terminata dopo 11 anni e tre figli, Riccardo, 9 anni, Flora, 5 anni e Artemisia, 2 anni, nomi particolari. Eleonora Berlusconi e Guy Bins hanno avuto così la possibilità di vivere la loro storia lontano dai riflettori, almeno fino allo scorso maggio. Poi certo sono arrivate le foto di diva e donna che sono apparse sin da subito molto evidenti. Il modello si stava allenando nel parco milanese, si sfilava la maglia, rimase a torso nudo e dopo gli esercizi ecco che arriva una misteriosa mora così all'improvviso con la quale alla luce del sole si scambia effusioni d'amore e anche molto bollenti. Baci appassionati, abbracci romantici, insomma era molto evidente il coinvolgimento, non si poteva nascondere in nessun modo, ecco questo è il senso. Allora vi ringrazio per l'attenzione di questo video, non ho altro da aggiungere almeno per il momento, poi lo sapete quando volete rimanete informati, mi raccomando quando volete, ci ritroveremo per un prossimo video, vi aspetterò sempre su Pausa Caffè.